l'area roma credo che come dire serate come questa e poi cancellino completamente magari qualche critica che arriva quando le cose normalmente funzionano un po meno negli alti e bassi che ci sono ovviamente in una stagione c'è che sensazioni si sta portando a casa da questa avventura a roma che a livello è il suo innamoramento per questa maglia per questo grande è molto molto grande mi piace molto essere allenatore della roma è un grande piacere essere allenatore qui mi piace tanto la città il tifosi voi sapete che non è non è facile qui ma io penso che è importante essere sempre equilibrato quello che io trovo di essere sempre equilibrato in tutti i momenti ma devo dire che è un grande piacere per me sono disfruttando molto sto imparando molto come allenatore della roma complimenti ancora fonseca in bocca al lupo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille